Si preparano in un attimo e sono buonissimi i panini di pasta sfoglia falciti. Eccoli pronti, sono facili e buonissimi. Possono essere preparati tranquillamente anche in anticipo. Cosa aspettate? Provateli subito! Srotolo sul piano da lavoro un rotolo di pasta sfoglia rotondo. Con l'aiuto del coppapasta, va benissimo anche un bicchiere, creo dei cerchi, rimuovo l'eccesso di pasta. Spennello la superficie con un goccino di latte. Cospargo con i semi di papavero. Trasferisco i cerchi sulla leccarda da forno. Trattengo la carta da forno presente nella confezione. Lascio cuocere in modalità statica a 190 gradi per circa 15 minuti. Una volta cotti e raffreddati, dividi in due parti. Falcisco con il formaggio fresco spalmabile, salmone affumicato e insalata riccia. Chiudo con l'altra metà e servo subito. Buon appetito a tutti! Ed ecco a voi, miei carissimi amici, i panini di pasta sfoglia. È un antipasto facile e velocissimo, pronti in soli 15 minuti. Naturalmente potete farcirli con gli ingredienti che più preferite. Possono essere preparati in largo anticipo. Potete cuocerli anche il giorno prima. Tantissimi auguri, buone feste e buon anno!